Essere mamma mi aiuta ad essere infermiera ed essere infermiera mi aiuta ad essere mamma. A dirlo è chiara che è moglie e mamma di sei bimbi e di infermiera all'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Molti mi chiedono come faccio a fare la mamma di sei bambini e a continuare a lavorare. Sinceramente, dice, non ho né una ricetta né una formula magica. La fede sicuramente mi aiuta. Accolgo giorno per giorno quello che mi dà la vita. Amo il mio lavoro, prosegue Chiara, lavoratrice pendolare residente a Camisano Vicentino e sono sempre più convinta dell'importanza di questa professione. Oggi posso affermarlo con una consapevolezza ancora più profonda perché un anno fa mi è stato diagnosticato un linfoma. In questa malattia, affrontata con le terapie eseguite sempre allo IOV, ho trovato delle persone che si sono prese cura di me a partire dai medici fino ad arrivare ai colleghi che mi hanno accompagnato in questo percorso, non solo con grande professionalità, ma soprattutto con profonda umanità. Nonostante la sofferenza, questa esperienza mi ha aiutato a vedere i pazienti in modo diverso. Oggi capisco di più quanto sia importante non solo curare, bensì prendersi cura delle persone standole accanto anche attraverso un sorriso, una parola di conforto o semplicemente tenendole la mano in un momento di difficoltà.